È in Basilicata che questa notte si è registrata la nevicata più abbondante, con temperature di diversi gradi sotto lo zero. Dopo Matera, da ieri ricoperta di una decina di centimetri di neve, questa notte il gelo è calato anche su Potenza, il che ha fatto scattare il divieto per la circolazione di mezzi pesanti in tutta la regione. Era stata annunciata e la neve è arrivata a coprire molte province del paese, in particolare al centro-sud, dove per tutta la giornata molte città saranno colpite da abbondanti nevicate. A questo proposito, il Dipartimento di Protezione Civile aveva emesso ieri un nuovo avviso di condizioni meteorologiche per il persistere delle nevicate su Abruzzo, Molise, Campania e Puglia, fino a livello del mare. In Abruzzo è stata attivata la colonna mobile della protezione civile. Oltre 20 comuni abruzzesi hanno aumentato le misure per prevenire disagi. Giornata difficile anche nel Salento. La neve è arrivata persino sulla costa meridionale, a Bari e a Brindisi, mentre quella caduta su Lecce ha provocato la chiusura della tangenziale ovest all'altezza dello svincolo per Castro Mediano. Approfittando del periodo di chiusura delle scuole, la neve è una buona occasione per scendere in strada su Slittinio con le racchette. Per questi lupacchiotti di Civitella al Fedena, in provincia dell'Aquila, l'occasione è ghiotta per potersi divertire, arrotolarsi nella coltre bianca che si è depositata nella notte.